La versione integrale dell'Ariosto. Stefano Accorsi e Marco Baliani hanno incantato il pubblico del Teatro Lauro Rossi di Macerata nelle due serate della stagione firmata dall'AMAT, con uno spettacolo tratto dal capolavoro di Ariosto duettando in una giostra poetica tra sentimenti antichi e nostalgici e mirabolanti avventure. La giostra è quella dei cavalieri paladini maomettani che, duellando, amando scontrandosi e scornandosi, tradendo e infuriando, girano in tondo come figure di una macchina giostrante, apparendo e scomparendo a seconda del giro tondo che il gioco impone, il tutto anche in una chiave ironica. Giocando con Orlando, spazia a 360 gradi nel capolavoro a Riostesco, un girovagare ciclico e fiabesco, dove le storie iniziano a girare guidate dalle parole in rima e di colpo si interrompono, restano sospese in attesa del prossimo giro, ritrovando il bandolo perduto, riprendendo il filo del racconto. La storia passa da Angelica a Orlando, poi da Bradamante a Ruggero, coppia in fuga e in continuo insiegamento. I due attori saltano su e scendono giù dai cavalli virtuali, cambiando modi e toni del parlare, narrando, monologando e dialogando. Il pubblico è rimasto estasiato un'ora e mezza senza pause, che ha sorpreso lo spettatore con una vera e propria giostra di sentimenti, passioni, risa e pianto. Successo anche per l'appuntamento di sabato pomeriggio con gente di teatro, con la civica enoteca macerattese strabordante di gente che ha voluto incontrare i protagonisti, che dal canto loro hanno offerto un momento di approfondimento e riflessione sullo spettacolo serale.